ciao a tutti e benvenuti su cantare rmb mi presento io sono alessia ma potete chiamarmi ale oggi reagisco all'ultima puntata di x factor come sempre ragazzi prima di iniziare il video mettete un bel like così mi aiutate e sostenete il mio canale se avete voglia poi ricordatevi di iscrivervi e schiacciare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto adesso passiamo direttamente al video allora non partirò dall'intro che è stato fatto da georgia perché ho già fatto una reaction a quello e lo trovate qui ve lo metto qui sopra quindi partiamo direttamente dalle esibizioni i primi ad esibirsi sono i the fools si nota che hanno già calcato palchi che suonano dal vivo il frontman l'ho già detto nelle puntate scorse secondo me ha un grande fascino come come frontman appunto è molto molto credibile mi ricorda un giovane gianluca grignani non so se sono l'unica oltre a quello che abbiamo già detto in passato quindi the doors eccetera gli hanno dato anche un po questo look così quindi proprio per ricordare secondo me questo è uno di quei casi in cui il cantante invece di essere intimorito dal pubblico e dalla situazione viene galvanizzato dalla stessa e quindi da il meglio di sé non lo so è la mia idea proprio un'idea che mi dà così bisognerà vedere poi nel tempo comunque secondo me loro come gruppo sono molto credibili e lui comunque è un bravo cantante sentiamo cosa dicono i giudici dura qui è bello bravi questi ragazzi sono a fuoco chiaramente senato che ne pensate ragazzo a fuoco sono bravi invece io quando ho saputo l'assegnazione avevo dei grandi dubbi perché io ho fatto questo pezzo con maurizio con salmo anni fa in una trasmissione in televisione in realtà c'è una oscurità proprio uno spessore che questo pezzo facevo fatica a pensarlo per voi perché siete così belli avete ingravidato anche me alla mia età è difficile ok sì effettivamente a guardarli sono belli però sempre un vantaggio perché io non pensavo credibili voi in un pezzo come questo non è che non fosse bello eh questo non vuol dire si può essere belli e dannati forse sono un po pulitini ma dai ah il momento di Laura non mi hai fatto venire i brividi devo dire la verità no mi è piaciuta per niente agli on visit c'è il video ve lo metto qua vediamo cosa le fanno cantare facciamo il panico mamma mia che immagine anni 90 ragazzi veramente mi viene un po' l'ansia comunque è l'alter ego di Paola lei è giunta l'ora di Laura Laura è molto pop Paola lo sapevamo eh però comunque su di lei ci sta la scelta pop allora ok che Nicki Minaj ha un tipo di vocalità eccetera però addirittura già lei ha una voce comunque mediosa sottile e renderla ancora più così schiacciarla yes I'm a woman yes I'm a baby beh cioè diventa quasi una caricatura secondo me a me non è piaciuta questa scelta best believe that when you need that best believe that when you need that non c'era la necessità perché lei ha già una vocalità così ci sentite troppo troppo alla fine uno deve usare la propria voce ho capito lo stile ci può stare ma così tanto secondo me no ha fatto un roll là e poi si perde un po' di precisione perché se tu stai ricreando questo suono così sottile quindi alzando la laringe e poi però vuoi spingere di più se non sai come farlo ti trovi come in scatolato c'è una parte spinge in giù una parte spinge in su e cominciano a essere precise e mamma mamma e mamma ma non c'è stato questo era un po' incerta la nota sicuramente è una ragazza che è già pronta per fare per fare show a me personalmente non piace oh signore no 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 è lo stesso tipo di urlo perché è praticamente un urlo questa cosa qua non è una voce controllata che ha fatto agli home visit e io ho fatto più o meno la stessa faccia che ho fatto adesso no allora se fai queste cose qua devi saperle fare devi sapere controllare la tua voce e deve venire fuori un suono bello se no è che noi la vediamo lì con tutta la lambarada anche ci sta intorno luci scena e tutto quanto ci sembra più convincente ma se voi la togliete della e ve la mettete nella stanza e vi fa un urlo così vi assicuro che non è piacevole a mio gusto personale signori l'italiano snì ok l'italiano snì per me la tua perva d'artista è una sincera o a volte mi sembra un po' recitata però comunque comunque sei un grande talento e tenere così il palco comunque non è da tutti un timbro bellissimo grazie mille ha un timbro bellissimo ok va bene ok io non ho capito niente nella vita comunque è vero è molto è molto costruita è molto non so non mi sembra la sua personalità questa qua Manuel vai tu questo è un xpass la qualità dell'xpass ce l'ha nettamente una performance notevolissima e qua c'è del grande talento sono anch'io lo sai un grande fan dei testi riscritti quindi davvero posso chiedergli perché cioè che senso ha riscrivere perché hai messo dentro perché ci voglio mettere del mio sono vabbè come sai su queste cose non sono d'accordo bravo perché sinceramente su questo pezzo qua ma cosa serve aggiungere c'è già tutta la parte rappata c'è il tema c'è è un pezzo molto forte cosa devi aggiungertici di tuo secondo me è un bel niente è che vabbè bisogna contestualizzare perché siamo in italia non possiamo fare proprio gli esterofili totalmente però insomma anche no anche perché non è che abbia messo chissà che che testo illuminante cioè no però al di là di questo quello che siamo qui a giudicare è la tua qualità il tuo talento è questo sicuramente ha il talento da showgirl sicuro le votive loro a me piacciono sono convincenti sono bravi un po' banale come scelta un po' stereotipata la cosa cioè questo è un pezzo iconico stra famoso si ascolta da decenni e lo sentiamo dappertutto è un po' banalotta come scelta secondo me caro Achille c'è stato un piccolo sforfugliamento delle parole all'inizio secondo me non sono facili non è facile quel pezzettino di strofa comunque lui ha una bella voce un bravo cantante ha doggiato la nota di nuovo l'ha doggiata ok mi sa che non la fa ragazzi sapete cosa è difficile da capire in queste esibizioni qua quanto c'è davvero di live in questa roba qua perché sotto c'è altra roba visti così sono molto credibili e mi stanno piacendo devo dire sono bravissimi talento pazzesco però questo pezzo sta in piedi perché c'è una voce mostruosa quella di Nick Chester che conosco molto bene perché ha cantato anche in un mio disco e il resto del pezzo è un po' formato sui cliché di un certo tipo di rock and roll non sembra Last for Life di Iggy Pop fatto vent'anni dopo quel tipo di cantato è indispensabile per spaccare su questo pezzo per cui rimanete fra i miei preferiti qua dentro avete fatto una versione molto potente però scegliete le cose che potete fare perché secondo me qua mancava qualcosa a livello vocale ma dai ma no vabbè ma dai ma non è vero non sono tanto d'accordo è vero che la voce originale è molto più spinta più lama più tagliente però non è non trovo che si sia sentita troppo la mancanza capisco cosa vuole dire Manuel però non so insomma non penso che non avrebbero dovuto farlo e che avrebbero dovuto scegliere qualcos'altro mi domando loro nella vita reale se possono avere un posto ma certo ma magari fra cinque anni ce l'avranno sì assolutamente ma se riescono a uscire da questo diciamo da questa impostazione da rock allora lui parla perché? perché conosce perfettamente qual è la situazione musicale in Italia ad ora e c'ha pure ragione perché alla fin fine chi faceva rock, pop rock, glam rock vabbè insomma più o meno rock se n'è andato a far successo da un'altra parte questi ragazzi se diventano famosi uscendo da X-Factors dovessero vincerlo si ritroverebbero come tutti a cantare in italiano però io sinceramente non li sento tanto lontani da gruppi rock che abbiamo avuto negli anni 2000 non so mi vengono in mente per esempio anche le vibrazioni perché comunque sia vabbè non c'entrano niente con questo pezzo che hanno appena appena fatto però le esibizioni saranno tutte diverse non vedo che questi ragazzi abbiano uno stile così inscatolato e che non possano essere versatili secondo me magari magari ci fosse posto è che la furia lo dice perché sa che adesso c'è tanto prodotto in giro e poco musica, band e rock rock proprio no non so però io vedo un po' troppa attenzione all'esibizione a voler rendere la voce in un certo modo piuttosto che quindi un po' a cambiarla, un po' a camuffarla piuttosto che a essere veramente espressivo nel pezzo e mi manca anche un po' di forza questa canzone comunque sia ha delle frasi al suo interno che sono toste ci vuole veramente una personalità grossa per dire una cosa del genere che tra l'altro la canzone è dedicata al discografico di Fortis quindi capite bene che cavoli era molto tagliente molto tagliente e poco equivoca cioè si capisce benissimo il messaggio e lui mi sembra un po' sterilino un po' tanto saltellante ma vabbè andiamo avanti ok loro cioè Paola questa scelta ho capito che sono particolari loro ma l'estate sta finendo io gli avrei dato un pezzettone anni 80 non so tipo ci mi viene già l'ansia io capisco bella la coreografia però beh loro sanno suonare suonano wow no malissimo all'inizio problema non becca le note gravi perché o è sbagliata la tonalità o sentiamo grande uh che suonature ragazzi no tante suonature lo sai che non mi va secondo me è cannata la tonalità e gli sta facendo fare un po' gli sta veramente rovinando questa cosa perché la voce non ci siamo non è centrata per niente no 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 sembra un po' troppo caricatura no scivolata fiacca per terra sentita proprio per niente sta scivolata vorrei anche dire che la lacrima è stata fatta storta sentiamo il re della stravaganza calma 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 ragazzi stasera mi dispiace vi devo sfondare un pochino eh allora ragazzi per me mi piaceva l'idea su carta di portarvi nel pop però questo la scelta musicale più quello che vedo per me e lo dico io per me è tanto è troppo cioè siamo per me su carta nel senso il mondo dello spettacolo è importante però però tu puoi mantenere capito la tua anima rock star soprattutto cioè esuperante no soprattutto su un pezzo così per me meno per me Paola dovevi dire signori andiamo nel pop sì ma teniamoci però ripeto ma cosa intendi dire per teniamoci non ti piace il pezzo che mi non voglio dire che poi mi arriva la mano dal cielo però mi cringe capi cringe è vero è bello mio però adesso ti arriva la mano dal cielo non si dice cioè più che altro più che altro io amo l'esuperanza e figurati tutti fanno esibizioni capito disturbanti io anche ricerco però io vestito così sto ragazzo con questo look eccetera so che vabbè chi cavolo assegna sta canzone ma voi ve la ricordate I breathe clouds beneath my window I breathe clouds beneath my window comunque secondo me quello che non stava proprio era l'intonazione che mancava troppo se fosse stato più preciso nell'intonazione sarebbe stato molto più centrato tutto invece risultava tutto un po' beh bisogna dire che la capacità di disturbare però ce l'hanno perché insomma da questo punto di vista però io sono un po' confuso anch'io ragazzi perché va bene gli anni 80 però la differenza tra i Joy Division e i Righiera con tutto il rispetto per i Righiera c'è la capite o no cioè è molto strano saltare così di palo in frasca da una proposta a un'altra però quella te la devi prendere con me eh sì sì e me la prenderò con te non ti preoccupare occhio è che sono armata una minaccia ho sbagliato ritratto tutto no in realtà la cosa che comunque mi ha colpito invece proprio dell'esecuzione in negativo è che secondo me avete proprio sbagliato anche la tonalità la tua voce questo è un pezzo che ha una freschezza pazzesca nell'originale però è la capacità interpretativa lei entra dentro la canzone con una profondità che pezzo le hai dato c'è lei vuole cantare Frank Ocean se vuole la coach giusta sono io non sono non sono tanto convinta con l'abbinamento sinceramente vediamo ah un timbro bellissimo sta ragazza sembra già già un disco ma questa canzone fa don't be the girl oppure fa come fa lei girl don't be the girl se è il primo caso vuol dire che deve imparare a fare a glissare tra tutte queste note allora questa canzone non mi piace devo dire che lei io penso che lei vincerà x factor lo dico subito secondo me è anche una figura musicale che manca in Italia e secondo me vincerà lei è già pronta vocalmente nel senso che ovvio c'è sempre da imparare però sentite come già l'emissione è credibile è molto credibile bello bello cavoli da una voce così non ti aspetti questa facilità negli acuti di testa bellissimo ti faccio i miei complimenti per aver scelto questo pezzo così grazie così poco hype così così bello e così in grado di far capire che in realtà tu puoi uscire anche da non dalla tua zona di comfort da quello che tutti si aspettano io l'ho già detta questa cosa finalmente arriva qualcuno che canta quello che piace a me loro fanno di tutto per farlo uscire dalla zona di comfort e dargli sta roba qua che a me sinceramente sì per carità pezzo poco hype però non mi sembra un bel pezzo sinceramente mi sembra un pezzo molto monotono tutti si aspettano che tu faccia far vedere che sei capace di fare tutto no è benissimo no non è questo che mi aspetto io mi rifiuto di dire qualsiasi cosa di brutto sulla tua voce sulla tua esibizione perché sei ovviamente benedetta bravo Jake avevo bisogno a questo punto della gara di un brano che mi scioglieva un po' e va bene lo stesso va bene un problema tuo vai Lauro allora senato posso dire cosa abbiamo visto eh sì questa ragazza è trasformata in una leonista Manuel bravissimo scelta pazzesca grazie io sono veramente sconcertato anche io mi aspettavo con una super ballad ma ti posso dire bellissimo internazionale signori ma cosa dobbiamo dire bravissimo oh ah Lauro datti un attimo un tono eh sono d'accordo lei è credibilissima sul palco cioè lei si sente già lei è già perché l'acuto che facevi in prova era molto molto più potente più alto di così e non l'hai fatto perché ti sei cagata addosso ok allora siamo qui per imparare ma anche tu devi imparare sei un hai un dono ma devi tirare fuori le palle come fanno tutti gli altri quella nota lì l'hai fatta voluta quella nota lì è solo la prima poi ne facevo un'altra più alta di una quinta che era una roba che ci traforava le orecchie mi dispiace più che altro perché non è stata una settimana molto rosa a livello di voce però devi rischiare lo stesso sì lo so devi rischiare siamo qui per rischiare ciao 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 Grazie a tutti.